Il film racconta personaggi che neppure io credevo esistessero e come le loro vite si siano in qualche modo mischiate a un evento così tragico. E quindi ho fatto tante ricerche, ho chiesto alle persone come si sentissero, come avessero vissuto quei momenti. Il film ci mostra quanto si possa e si debba essere forti in un momento che davvero ha cambiato la storia di una nazione e non solo. Come vede il suo viaggio da Smallville, per cui è ancora molto popolarità, al punto in cui si trova adesso? Devo proprio dire onestamente che se non fosse stato per il successo di Smallville oggi non sarei qui.